La prima parola è calcio. Calcio è il mio modo di vivere, il mio modo di essere felice ed è il modo migliore per esprimere il mio talento. E la mia fortuna è stata quella di aver trovato uno sport che mi abbia permesso di esprimere il talento che avevo.